E al di là del tuo giudizio su questo governo che è molto chiaro Vittorio, ma pensi che sia possibile un'alleanza anche elettorale tra 5 Stelle e PD, cioè un accordo politico più reale? Con la Lega era una cosa strana, stavano al governo insieme e poi si andava a fare le elezioni con Gasparri e Lameloni per capirci. Invece loro potrebbero immaginare una vera alleanza politica a tuo parere? Ma secondo me sì, perché pur di impedire a Salvini di prendersi un'altra fetta di potere, è chiaro che il Movimento 5 Stelle e il PD siano disposti a qualsiasi nefandezza, quindi ci sarà anche questa, la vedremo di sicuro.